Buongiorno, un altro tutorial su come impostare il vostro indirizzo mail della Google App su un dispositivo Android, in questo caso un Samsung Galaxy Note. Andate sul Play Store, nell'area di ricerca digitate Gmail, che è questo qua. Naturalmente se già lo avete vi dirà di installarlo, in questo caso io l'ho già installato, devo solamente aggiornarlo. Accettate le condizioni e si prosegue. Una volta installato potete fare apri. Se vengono gestiti diversi indirizzi email, potete comunque aggiungere un altro indirizzo. Indicare quale indirizzo volete installare, quale tipologia, noi digiteremo Google e cliccheremo su Avanti. Diremo che vogliamo aggiungere un account esistente e indicheremo l'indirizzo mail che ci è stato assegnato. Una volta inserito nome utente e password, potete proseguire dando l'ok. Questa terminata sincronizzazione troverete il vostro indirizzo insieme a tutti gli altri. Se all'interno della vostra app vengono gestiti troppi account, se voi andate su gestisci account e cliccate su un account, ad esempio in questo caso Marcello May Nero, potete cliccare su Rimuovi account e rimuovere l'account per avere semplicemente una tipologia di account gestita che è ad esempio questa, ovvero quella istituzionale. Allora potete cliccare su Sincronizza ora, per fare in modo che il vostro account venga visualizzato correttamente. Ed ecco qua le mail che avevamo già visto prima, con i diversi suggerimenti dati da Google. Grazie. Grazie.